Quindi tu ci devi riprendere, mettiti qui dall'alto, ciao a tutti i ragazzi, riempi il bicchiere, non c'è niente da bere per la cronaca. E' una cosa molto seria questa sera, siamo qui con chi sei? Presidente, primo portiere del calciopadro questa sera e stiamo risolvendo una questione che sta molto a cuore ai tifosi, salutate l'ha detto stampa Massimo Candotti e i suoi occhi intrisi di terrore perché gli stiamo facendo sottoscrivere l'allungamento del contratto, perché il portiere è bravo, il ragazzo è bravo ma non vuole firmare. Ecco, abbiamo il presidente che conferma che questo è un contratto pronto per essere firmato, lo mostriamo, vedi? Rinnovo del contratto per X anni deciderà lui, cifra in bianco, il presidente che è lui, il signor Boscolo, ha detto che va bene. E' una firma, ora, sono pronti? Vuoi chiedere quanti benefit, quante posizioni partirebbe? Ma chi è il tuo procuratore? Dicci, dici, no, a cuore aperto, siamo tra pochini, puoi dire quel che vuoi. Siamo già nel girone B, la serie C, accontentati, voglio dire per adesso, no? Non tentarmi mai, quindi. Va bene, ci stiamo lavorando a D? B, per forza. Quanti anni, quanti anni? 10 anni, morirai a Padova, che bello, come Buffon, complimenti, nelle condizioni sul retro che lei non ha letto, sono compresa una collana di enciclopedie, di paperelle a forma fallica, e quelle non spiega cosa serviranno, lo scoprirà da lei. Ragazzi, è fatta, abbiamo primo portiere per 10 anni, siamo a posto, ragazzi, è fatta, siamo nella merda anche noi, è stato bello. Dicci, ha ragazzi, è certa, siamo a posto.